si diceva del carattere pastorale della regione molisana che trova in boiano uno dei centri più noti per la produzione lattiero casearia il suo etimo è in qualche modo leggendario poiché richiama il bue che avrebbe guidato la trasmigrazione sannitica dall'originaria sabina i diversi terremoti che si sono susseguiti in varie epoche hanno devastato la città lasciandone una fisionomia frammentaria anche per quanto riguarda una documentazione archeologica parte di questi frammenti sono tuttavia raccolti nei giardini dietro il municipio in piazza roma mentre palazzo cola grossi ospita il museo civico nella contigua piazza della vittoria nel raccolto centro meritano la visita la chiesa dei santi erasmo e martino per la facciata con portale ogivale e tre monofore e la cattedrale di san bartolomeo in buona parte ricostruita conservando tuttavia il prezioso rosone in via san bartolomeo 31 a 500 metri dalla cattedrale e meno di un chilometro dalla stazione tappa d'obbligo è al caseificio biferno tra i più affidabili dell'intera regione la stima acquisita in oltre 60 anni di attività dall'azienda di franco pulsone si basa sulla scelta quotidiana del miglior latte fresco proveniente dai dai pascoli del matese e sulle tecniche artigianali padroneggiate perfettamente oltre al fior di latte boianese si raccomandano le scamorse appassite i caciocavalli di diverse stagionature le trecce il pecorino il burro e le ricotte la pasticceria bardangelo in via fiumicello 21 è un'altra sosta consigliata naturalmente per un buon caffè e una prima colazione davvero curata ma anche per i gelati e i dolci da sporto l'assortimento della pasticceria mattutina comprende varie brioche e paste tra cui la ragosta la crema e le tipiche sfogliatelle locali ricordo volentieri anche i gelati e in alcuni periodi dell'anno il pandangelo ricoperto di gianduia per il pranzo invece l'indirizzo di riferimento è da filomena raggiunta la località limpilli lungo una strada di campagna non molto distante dalla stazione ferroviaria trovate questa tradizionale trattoria che nel contesto ricorda una stazione di posta poche ma collaudate e onestissime proposte che attingono alla produzione casearia locale e agli allevamenti di trote che si incontrano lungo la strada cavatelli al ragù tacconelle e fagioli agnello alla brace alcuni dei piatti sempre disponibili accompagnati da un vino locale rispettabile altra sosta consigliata che richiede circa 4 chilometri dalla stazione ma ne vale la pena è al borgo di civita superiore che raggiungiamo percorrendo l'omonima strada comunale per civita non rimpiangerete di essere saliti fino a qui e potrete apprezzare la bella conservazione del borgo medievale e la tranquillità del contesto alle quali si aggiunge il valore della cucina di filindo e antonella al borgo antico largo san giovanni 6 preparazioni terra terragne quali pappardelle a ragù bianco d'agnello ravioli di ricotta appena lavorata nelle casere di pascoli vicini brasato alla tintilia ma anche di trote e in stagione tartufo altro indirizzo non meno consigliabile è la risorta locanda del castello che si trova in via portella 19